Noi precari a vita, le nuove norme sono peggiorative. È quanto scrivono i dipendenti dei UTR, gli Uffici Territoriali per la Ricostruzione. Come dipendenti degli Uffici Territoriali per la Ricostruzione, torniamo a denunciare la situazione di anomala precarietà che viviamo da anni e che potrebbe addirittura peggiorare a seguito degli ultimi sviluppi normativi. Pur avendo sottoscritto nel 2013 un contratto a tempo indeterminato, ognuno con il rispettivo comune capofila delle aree emogene, lavoriamo nella prospettiva di ritrovarci nel 2023 in soprannumero, e quindi nella condizione di essere soggetti alla procedura di mobilità obbligatoria per essere riassorbiti altrove, con tutto ciò che questo comporta per la vita dei lavoratori e per le loro famiglie, insomma, dei precari a tempo indeterminato. Il recentissimo emendamento del Governo inserito nel decreto fiscale ha disposto che dal 1 luglio 2018 gli UTR verranno soppressi e il personale verrà dislocato con tutta probabilità presso l'USRC con sede a fossa. Questo ci pone davanti a un paradosso, dicono i lavoratori, innanzitutto a fronte della dislocazione fisica presso l'USRC e la soppressione degli uffici originari, non è prevista nella legge nessuna modifica del contratto, che si presume quindi resterà in essere con gli attuali comuni capofila fino e non oltre il 2023. Dalla recentissima ricognizione sul fabbisogno di personale chiesta dal coordinatore dei sindaci delle aree omogenee a singoli comuni e sollecitata negli ultimi giorni da dipendenti stessi, così come dalla CGL, è emerso che su 56 comuni solo 5 hanno risposto, Tossicia, Pietracamela, Fanadriano, Cocullo e Acciano, escludendo esplicitamente la possibilità di assorbimento del personale in questione o comunque di far delle previsioni ad oggi. Inoltre si andrebbe ad aggravare la già incomprensibile discriminazione dovuta all'emendamento castricone, cosiddetto castricone, che comporta una diversità di trattamento, scrivono ancora, a parità di mansioni, dei dipendenti UTR rispetto ai colleghi degli uffici speciali USRA e USRC, contrattualizzati sia con il MIT che con l'ente locale a tempo determinato. Crediamo e concludono che se lo scopo dei recenti sviluppi normativi in materia di organizzazione e gestionale degli uffici per la ricostruzione sia quello di creare le condizioni per accelerare la ricostruzione stessa, allora non si possano tener conto di queste criticità. Questa situazione deve essere risolta nell'immediato, non rimandando ad una data indefinita continuamente prorogata, originariamente 2021 ad oggi 2023, se c'è la volontà di arginare il continuo esodo di personale specializzato verso posizioni lavorative effettivamente stabili. La serenità dei lavoratori stessi, infatti, è la condizione primaria per ottimizzare i processi di ricostruzione in atto.